Il rapporto annuale Mi fa molto piacere che il tema delle reti, che è un tema estremamente importante, sia stato messo al centro di questa riflessione, nelle sue varie articolazioni, sia quella demografica, sia quella economica con le reti delle imprese, sia quella sociale. Analisi molto lucida, molto puntuale, che ha messo in evidenza sia le problematiche del nostro Paese, sia le grandi opportunità e anche qualche rischio. Quindi pare particolarmente ricco, particolarmente nella tradizione, ma particolarmente innovativo e, come sempre, particolarmente utile, anzi fondamentale.